Ci troviamo all'interno del cortile di Palazzo Vecchiarelli davanti alla Maison 57 con Stefano Scarani, designer, perché è un momento particolare nella tua attività. Hai festeggiato un appuntamento importante con la tua attività, con il design in generale. Sì, intanto buonasera. Oltre che designer sono uno dei fondatori di questa attività che è da tre anni in questo cortile di Palazzo Vecchiarelli. Ci occupiamo di design, quindi di architettura, progettazione, ci occupiamo di rifinire appartamenti, case e tant'altro. La nostra volontà, la nostra specifica è quella di fare anche oggetti su misura o particolari. In particolar modo, diciamo io, essendo orientato sempre a fare cose differenti su misura, mi piace di inserire ogni tanto degli oggetti nuovi in contesti anche di appartamenti e tant'altro. E ne nasce spesso e volentieri di disegnare prototipi che poi vengono brevettati oppure andranno in produzione. Ecco, di questo parleremo tra pochissimo. Intanto, visto che è una figura particolare e anche decisamente complessa, spiegaci esattamente chi è un designer, cosa fa un designer. Perché si sente spesso parlare di design in generale, ma tante persone magari non riescono a capire qual è la complessità della funzione. Sì, design in inglese significa semplicemente progettare, progettazione. Designer, quindi colui che progetta. Il significato, in ogni caso, negli ultimi anni ha assunto un ruolo più ampio, quindi un significato che supera il letterario. E' colui il designer che professionalmente inventa, gestisce, esegue un processo nuovo che spesso e volentieri si intermedia con quello di altre professioni, che può essere quello dell'architetto, dell'ingegnere e tant'altro. Quindi il designer è un creativo a tutto tondo che può essere più o meno specifico nella sua, diciamo, dedizione. E quindi possiamo andare a trovare il design di mobili, quindi il furniture design, possiamo prendere il fashion design, colui che fa design di abbigliamento. Ma spesso e volentieri queste sono persone creative e che quindi possono spaziare da una parte all'altra. Faccio solamente un breve cenno a un famoso designer che negli ultimi giorni dagli Stati Uniti si è, tra virgolette, lamentato nel campo della comunicazione di non essere molto apprezzato, sebbene lui disegni per bulgari, per marche importanti, perché gli dicono tu non puoi essere un designer che fa tutto. E lui invece ha detto no, io mi sento che la mia fantasia veleggia e spesso e volentieri va su altri campi. Ecco, il creativo quindi non ha limiti per definizione. Il designer in questo senso spazia dalle cose splendidamente superflue a quelle invece più strettamente funzionali. Ecco, perfetto. Abbiamo affrontato un tema importante perché spesso, diciamo, quando noi siamo nei nostri appartamenti vediamo delle cose che spesso non hanno una funzione reale, sono di bellezza piuttosto che invece una porzione di funzione è una porzione di bellezza. Quindi l'arredo, l'arredamento, il fare di un angolo o una situazione particolare deriva proprio dalla composizione di oggetti normali e funzionali magari messi insieme a oggetti che possono essere anche più effimeri. Quindi il designer può essere costoso piuttosto che economico, anche che è design, anche se ha una funzione differente. Può essere un pezzo kitsch di design, può essere molto bello, messo in un determinato posto. Può essere invece chic perché è più... oppure può essere effimero perché magari ha una funzione, come dicevamo, più nascosta. Ecco, entriamo io direi all'interno adesso della Maison 57 così ci fai vedere e ci spieghi proprio nel dettaglio tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Abbiamo detto che per te questi giorni sono giorni importanti perché ricorre una data particolare per la tua attività. Sì, è un mio anniversario professionale e ho pensato in ogni caso di creare un evento con il gruppo della Maison 57 e all'interno dell'evento c'è stato il motivo di presentare una nuova sedia, che è una sedia senza seduta, proprio si vede anche dalla sua fotografia, che in ogni caso è ironica, ma è studiata a mio avviso con attenzione in particolari e che per ora è stata realizzata in cinque pezzi numerati da collezione, dal numero 01 fino al numero 05. Quindi questa sedia anche dal nome particolare si chiama Ciseo Cifai e adesso ti spiegherò il perché. Ecco, in ogni caso ha poi alla fine una funzione, ma è anche oltre che funzione un oggetto di bellezza. Ecco, questa sedia in effetti coniuga perfettamente il concetto che stavi spiegando prima, cioè l'effimero del design con la sua parte funzionale, perché questa sedia in effetti è entrambe. Sì, è una delle cose che ci manca in questo periodo, forse anche particolare di crisi o meno, è la voglia di sorridere. Bene, noi dobbiamo anche capire che con poco, spesso e volentieri, si riesce anche a disegnare un appartamento differente e a viverci meglio, perché non è ciò che si fa solo al computer che viene a rallegrare un appartamento, ma è quello che noi personalmente andiamo a inserirci. Quindi l'effimero, il ridere, lo scherzare anche con noi stessi, fare anche un oggetto differente, è quello che ci aiuta anche a star meglio. Ecco, facci vedere qual è la particolarità di questa sedia senza seduta. Sì, è visibilmente una sedia senza seduta, la mia battuta, la provocazione, come si dice nella scienza del pensiero laterale, si deve sempre andare a cercare una soluzione differente da quella già percorsa. Allora, se ironicamente una persona dovesse pensare, voglio fare, voglio creare una sedia a low cost, cosa faccio? Gli tolgo i piedi e non va bene, perché dopo non si cade. Se gli tolgo lo schienale, diventa uno sgabbello e allora ha tolto la seduta. Quindi l'idea ironica e divertente è stata quella, è una sfida, tolgo la seduta e vediamo che cosa succede. Di fatto poi si abbassa e diventa uno sgabbello comodissimo, peraltro bello anche sia da aperto che da chiuso, con delle cerniere di acciaio inox a vista e in questo caso abbiamo inserito dei cuscini di design sempre realizzati da noi, dal nostro camillo tappeziere bravissimo, con un tessuto molto particolare di origine proveniente dalla Danimarca. Ecco, qui sono i due modelli, le due versioni di questa sedia particolare, uno più lineare, l'altro invece con linee curve. Sì, il primo pezzo è nato proprio con le linee geometriche, quindi il quadrato, dopodiché ho sviluppato immediatamente le due gambe curvilinee e c'è un terzo modello che arriverà tra un pochino, è un po' più complesso, ma è molto più equilibrato e racchiude un po' forse entrambe le soluzioni. Ecco, quella sedia lì vediamo che ha anche un'altra particolarità che riguarda proprio il cuscino, meglio il tessuto che ricopre il cuscino. Spiegaci. Sì, allora la manifestazione che è stata creata venerdì scorso si chiamava Ten Steps for Design, quindi dieci passi per il design. L'abbiamo declinata in dieci aggettivi, questi aggettivi erano scritti sulle pareti della Maison 57 e quindi tutto il pubblico, la stampa, leggeva, ha letto questi aggettivi, dove abbiamo spiegato che può essere kitsch, chic, effimero, costoso, divertente, sorprendente, iconico, può diventare un'icona, una creatività. Il nome di questa manifestazione è stato replicato su maglie, su polo, delle polo che vendiamo per dare la possibilità di partecipare all'amministrazione di una di queste sedie. Sono delle polo ricamate con i loghi della manifestazione molto belle, sia sul fronte che sul retro, sia da uomo che da donna. E quindi alla fine, per non farle tutto uguali, abbiamo detto creiamo dei cuscini appositamente con il logo della manifestazione, che sono personalissimi e quindi queste sono delle polo da abbigliamento, ritagliate, ricuscite e ricrate in tessuto. Quindi qui vediamo per esteso, ora chiaramente sotto sopra, dovremmo stare dall'altra parte, Ten Steps for Design e quindi questo ricamo è quello che si trova, immagino, sul retro, sulla schiena delle polo. Sulla schiena, sì. Eccoci qua. Questo è il sunto della cosa. Spesso e volentieri da un'idea, anche stramba, può nascere un percorso. Effettivamente questa sedia sta facendo nascere una linea che già avevo in disegno, che tutta insieme avrà un'immagine particolare, sia per case private, sia per hotel. Ecco, chi pensa di non poter ricorrere a un oggetto di design o comunque poter chiedere l'aiuto di un designer per risistemare il proprio appartamento, la propria casa? Perché magari immagina che sia così troppo costoso o comunque al di fuori dei propri mezzi? Ha ragione oppure è possibile, in certi limiti, per chiunque? Che ci si affidi a un interior designer o a un architetto, quindi diciamo con funzioni complesse e anche più complete da un certo punto di vista. Io consiglio sempre di affidarsi a un professionista quando si interviene, perché di fronte a un incarico dato professionalmente, perché consulenza è studio, è idee e ha dei costi anche da sostenere, si può riuscire a ottimizzare in bellezza, in gusto e anche in costi tutto quello che viene fuori dalla casa. Per dire, in questo momento sto facendo degli appartamenti privati, quindi i clienti si trovano meglio perché a quel punto hanno potuto seguire il percorso di divisione, di bellezza, di stile che loro intendevano, quindi abbiamo fatto un percorso insieme, ma hanno anche un controllo dei costi. Quindi in questo momento in piante elettrici c'è l'architetto che sta seguendo tutta la parte del progetto in piante elettrico, però loro essendosi affidati a professionisti hanno la possibilità di andare a ribassare o a scegliere determinati costi. Quindi se si affida un incarico, oltre ad avere tranquillità e assistenza, si ha anche un controllo del budget. Quindi è un po' un'idea non corrispondente totalmente al vero il fatto che affidarsi ad un professionista anche per ridisegnare gli interni di un appartamento è qualcosa che fa salire le spese in maniera esponenziale. Ma allora, devo dire che ci sono persone dotate di ottima creatività, che magari fanno lavori completamente differenti, che potrebbero fare un lavoro sicuramente migliore del mio o di un altro professionista, perché la creatività nasce dentro. Quindi ci sono persone che hanno gusto e persone che invece non riescono a esprimersi. Non è necessario affidarsi a qualcuno. È consigliato nell'80% dei casi perché c'è esperienza, c'è sintesi, c'è un tema che si crea insieme. È come andare da un medico, io non potrei curarmi da solo. Posso prendere un'aspirina, posso prendere un moment, ma quando invece ho qualcosa di più complesso devo affidarmi a qualcuno che ha studiato qualcosa di più di me. Abbiamo parlato finora del design come se fosse una cosa creata da poco, ma in realtà design è un concetto che va veramente tanto indietro nel tempo. Sì, io penso che il design poteva essere la poltrona romana che si usava per cibarsi, che era una chaise longue, una dormez, quindi già quello era il gusto del 1000 a.C. quindi il design è un'idea che poi entra in produzione e che all'inizio sembra scandalizzare e poi invece diventa una forma acquisita che tutti quanti si abitano a leggere e a mettere nei loro ambienti. Ora infatti volevo descrivere un ultimo pezzo abbastanza strano e dopo invece a contrasto far vedere alcuni pezzi di design che ormai sono entrati nelle nostre abitudini. Intanto già questo disegno che avete qui sullo sfondo della parete richiama chiaramente altri oggetti che dall'arte poi sono stati acquisiti, sono passati nel design e sono entrati in produzione e adesso vengono riportati in varie forme, in varie salze. Sì è verissimo, questo impianto scenico, questo pezzo d'arte è una composizione di 36 quadri, 50x70 commissionati a Luca Valentino, un pittore di Rieti, dove lui in questo modo ha riportato tutto quanto quello che è il gusto dell'Italia quindi qui abbiamo gli attori dell'Italia, abbiamo le scarpe, quindi la moda, il fashion design abbiamo l'arco di Castiglioni, quindi andiamo sul mobile, andiamo sugli attori, sul vino quindi diciamo ora si dice in Inghilterra, in inglese, che c'è la famosa regola delle tre F che sarebbe food, fashion and furniture, quindi queste tre mode, queste tre azioni vengono ormai spesso e volentieri messe insieme e più si va avanti e più si trovano luoghi come è anche la Maison 57, dove le aziende top di cucine ospitano grandi chef internazionali o magari la Chiara Boni che è un'artista, una grande signora della moda che interviene in queste cose questo oggetto alle due spalle, ad esempio è un oggetto molto strano che è stato presentato tre anni fa a Monte Carlo è stata una sfida dire voglio creare una colonna che si autosostiene sul soffitto e che all'eventualità può anche illuminare o fare da poggia tavolini oltre questo adesso andremo a vedere un paio di pezzi invece molto più normali che al tempo forse sono stati anche contestati normali adesso ma quando sono stati creati e inventati hanno creato, insomma hanno fatto alzare se non altro qualche sopracciglia si hanno fatto con l'amore, ad esempio il frigo Smeg che ormai anni 50 tutti quanti capiscono hanno ancora a casa moltissime famiglie che è ancora in produzione e che ancora viene fatto e replicato in moltissimi colori ovviamente è migliorato nella parte tecnologica quindi nel risparmio classe A e tant'altro però il design, quindi la sua estetica è rimasta identica quindi ecco è passato da un elemento che poteva vedersi ma anche no in cucina a invece qualcosa che attira lo sguardo e è fatto per attirare l'attenzione sì, ecco infatti oltre che attirare l'attenzione è come fare abbigliamento spesso non si veste bene chi acquista tutto un completo già fatto spesso magari, o di marca, spesso si veste bene chi ha gusto a mettere insieme una scarpa di una marca piuttosto che un abito di un'altra stessa cosa è per l'arredo, quindi si scelgono stili differenti e spesso si mettono insieme con gusto andiamo a vedere quindi quali sono questi pezzi che all'epoca nel momento in cui sono stati creati hanno fatto sì, ad esempio abbiamo già appena visto un frigo della Smeg ma potremmo dare un'occhiata a queste due sedie in questo momento riprodotte da Alivar che è un'azienda del design ma che negli anni 30 la Macintosh di sinistra e l'altra poltroncina in pelle, in cuoio a destra hanno fatto assai di scalpore io sfido chiunque adesso a fare una sedia alta, penso sia una delle più alte in produzione ancora è un metro e quaranta, è un metro e cinquanta e a dire che è una cosa nuova non è nuova perché è stata fatta esattamente 80 anni fa 80 anni fa eppure ancora è un oggetto che chiaramente può avere il suo posto e richiamare l'attenzione al di fuori del suo uso strettamente utilitario assolutamente, per rendere un angolo bello spesso e volentieri non bisogna solamente tinteggiare basta inserire un po' un oggetto anche magari fuori dal contesto architettonico anzi, ancora meglio, per rendere interessante una stanza poi magari quel tipo di ambiente, quel tipo di stanza è abbastanza economico anche nella sua produzione non ci saranno mai neanche grandissimi costi ma se si inserisce un oggetto però localizzato dove serve a quel punto è come un piccolo gioiello sul collo di una donna